Prima passerella per la settimana della moda di Milano, fino a lunedì con tutte le novità della stagione primavera-estate. E a debuttare il marchio inglese Peter Pilotto, che dopo 12 anni di sfilate londinesi, sceglie il Teatro Manzoni per presentare una collezione tutta colore e stampe. Completi floreali per lui e abiti con la stessa stampa per lei, due mondi che procedono appaiati tra richiami alla spiaggia e al tempo libero. È un'edizione che si allinea alla tendenza green degli ultimi anni. Si sperimentano materiali riciclati, come per il trench di carta firmato Benetton, si scelgono tessuti naturali che durano a lungo. Ai marchi più responsabili verranno assegnati anche i Green Carpet Fashion Awards per premiare i comportamenti virtuosi in un'industria che rimane comunque tra le più inquinanti del pianeta. Anche se si inizia a vedere qualche segnale incoraggiante, come la firma del Fashion Pact all'ultimo G7 e la scelta di Gucci che ha zerato l'impronta ecologica della sua produzione.